Lo avrei scuoiato lentamente, pezzo per pezzo, separando la pelle dai muscoli, i muscoli dalle ossa. Signori, questa è la mente di Edward Cullen. Oggi parleremo di Midnight Sun. Abbiamo aspettato 15 anni, 15 anni per questo libro e finalmente è qui. Grazie, Stefanie Meyer, grazie, ne avevamo bisogno. Prima di approcciarmi a questa lettura, ovviamente ho riletto Twilight. Questa è la mia copia personale, risalente al 2008, tutte le pagine invecchiate. E anche in questo caso ho preso degli appunti, ma come vedete qua c'è molto di più. Perché la mente di Edward, wow. Infatti all'inizio la mia idea era quella di fare un video in cui vi elencavo tutte le differenze tra Twilight e Midnight Sun. Ma in realtà non è che ci siano così tante differenze, perché la storia è sempre la stessa. L'unica roba è che Edward si fa un sacco di seghe mentali, ma un sacco di seghe mentali. Mentre Bella è un animo molto più semplice. Lui pensa le cose più astruse, è convinto tra l'altro che lei pensi chissà che cosa, che sia probabilmente pazza quanto lui, ma in realtà lei sta solo pensando Madonna che gnocco questo. Quindi niente, vi racconterò più o meno il libro, al meglio che posso, con tanto di citazioni. E niente, iniziamo subito. Allora, il libro si apre con Edward che si lamenta del liceo, perché lo trova noioso, essendo lui un vampiro intelligentissimo, bellissimo, purissimo, levissimo. E si sente superiore a chiunque, soprattutto agli umani, ovviamente, che reputa noiosi, banali, prevedibili. E niente, ci sono pagine e pagine di lui che fa lo sborone, fondamentalmente. Oddio, gli umani sono così basic. E percepisce, tramite il suo potere di leggere la mente, che sono tutti in fermento per l'arrivo di una nuova studentessa, vero e bella su Anna. E lui dice, madonna, c'è ma questi, che provincialotti, si esaltano per una ragazzetta. Edward, stai zitto che tu con questa ragazzetta ci farai cose, che mamma mia. E infatti arriva la scena della mensa, dove loro si vedono per la prima volta. Lui sciocco basito, perché non riesce a leggerle la mente. Infatti se sforza di brutto, tipo così, ma niente, niente, la mente di Bella è impenetrabile. E lui quindi inizia a pensare le robe più assurde, tipo, ma chissà cosa penserà questa umana. E quindi inizia a provare una sorta di attrazione nei confronti di Bella per il semplice fatto che non riesce a leggerle la mente. E quindi si convince, insomma, che lei sia un essere speciale. Perché sì, effettivamente è una cosa particolare il fatto che lei abbia appunto la mente chiusa a lui che legge il pensiero. Però il fatto è che non è che Bella pensi chissà che cosa. Cioè, lei fondamentalmente pensa sempre che lui sia gnocco. Ma lui è convinto che invece lei, non lo so, faccia dei pensieri profondi. Ma per favore. Comunque, subito dopo c'è l'ora di biologia. E lui è anche abbastanza in fermento perché dice Ah, sarò vicino a quest'umana e potrò magari sentire meglio che cosa pensa perché magari a me sarevamo troppo lontani. Edward. Povero Edward, ignaro. E niente, la scena la conoscete? Lei arriva alla lezione di biologia e c'è lui che sembra che sia per vomitare. Ma in realtà la sua mente... Oh mio Dio ragazzi. Allora, Edward è un pazzo. Perché infatti sente subito l'odore del sangue di Bella e impazzisce. Impazzisce e diventa una macchina assassina. Infatti, durante tutta l'ora di biologia dove noi l'abbiamo tanto preso per il culo perché sembrava che volesse vomitare in realtà lui sta pianificando come ammazzare tutti. Prima di tutto come ammazzare Bella. Ma soprattutto come eliminare anche tutti gli altri in quanto testimoni. Si sta trattenendo dal fare questa cosa più che altro perché lui e la sua famiglia hanno scelto di fare una certa vita quindi di essere dei vampiri vegetariani, vabbè. E questa cosa ovviamente li metterebbe in difficoltà ma allo stesso tempo dice ok, devo trovare un modo per ammazzarla questa perché il suo sangue è troppo buono. Quindi inizia a pensare tipo ad un piano per portarla dietro il parcheggio e poi dove nascondere il cadavere e poi diceva poi posso tornare qui alla lezione di biologia poter uccidere tutti quanti, il professore però ci sarebbero troppi cadaveri. Cosa? Ci sono un intero capitolo di Edward Cullen che pianifica omicidi? Incredibile! Però vi dirò, è stata veramente una delle mie scene preferite perché finalmente si è visto un po' il lato oscuro di questi vampiri che noi vediamo brillare e ci sembrano così Tumblr e poi in realtà vedi che ammazzano veramente la gente e sono un po' gattivelli. Comunque dopo l'ora di biologia lui scappa via perché dice no vabbè se resto un minuto di più questa la faccio fuori e quindi si fionda in segreteria per cambiare lezione. E qua madonna raga cioè la segretaria così come qualsiasi donna sulla faccia del pianeta che incroci lo sguardo di Edward Cullen pensa oh mio dio bellissimo però allo stesso tempo pensa no è troppo giovane, è troppo giovane devo smetterla di pensare queste cose e io ero tipo oh scus vi giuro questa cosa succede con la segretaria ma con chiunque altro qualsiasi donna all'interno di questo libro pensa queste cose su Edward Cullen tra l'altro piccola parentesi Stephanie Meyer ma veramente sei convinta che solo le donne siano attratte da Edward? Ti prego Stephanie non fare la stessa fine di J.K. Rowling te prego Comunque dopo questa scena meravigliosa Edward torna a casa Edward ovviamente spiattella tutto anche perché c'è Alice che vede che ha le visioni e quindi sa che cosa fanno tutti quanti e quindi cerca di darsi una calmata e dice no me ne devo andare e quindi scappa via scappa via correndo e se ne va sui monti denali non ho capito bene dove sia sto posto comunque lascia Forks Forks cittadina microscopica dello stato di Washington che si trova esattamente qui Ehi Giulia ma cos'è questo poster meraviglioso? Grazie per averlo chiesto ve lo spiego subito Allora questa meraviglia mi è stata mandata da Mappiful che è questo sito che vi permette di fare delle stampe personalizzate di vario tipo infatti ci sono le cartine come quella che ho scelto io potete farla di qualsiasi città e non solo città che esistono veramente infatti potete fare anche la cartina di Hogwarts oppure la cartina del Wakanda potete veramente sbizzarrirvi con qualsiasi cosa vi venga in mente poi ci sono le mappe stellari e qui potete inserire il vostro nome o un luogo e una data in modo da avere un'immagine del cielo in quel preciso momento per gli amici leone all'ascolto sì potete inserire la vostra data di nascita e vantarvi con i vostri amici di sapere esattamente dove si trovavano le stelle nel momento esatto in cui vostra madre era in travaglio ci sono poi anche le mappe zodiacali che sono simili appunto alle mappe stellari ma avete tipo il vostro segno zodiacale gigante e poi infine potete fare delle stampe personalizzate con qualsiasi cosa voi vogliate semplicemente trascinando un'immagine sul sito e voilà avete creato il vostro poster io ringrazio un sacco Mappiful per avermi spedito questo piccolo regalo ci tengo a precisare che non mi pagano per parlarne ma insomma mi hanno omaggiata di questa cosa e mi sembrava carino parlarvene nel video su Twilight perché appunto ho scelto il poster di Forks perché sono pazza e... qui sotto ovviamente trovate il link per il loro sito se vi va di acquistare queste cose ma torniamo al nostro Edward che appunto ha lasciato Forks e si è diretto sui Monti Denali dove sta il clan di questa Tanya che a quanto pare è una tipa che ci ha provato con lui anni prima ma che lui proprio non si è cagata de pezza e questa però ce l'ha qua capito e continua a provarci con Edward no fa morire sta scena tra l'altro so che esistono o esistevano delle fanfiction di Twilight in cui Tanya diventava tipo la ex pazza psicopatica che tipo voleva uccidere Bella delle robe raga comunque scopriamo un po' di cose su questo clan dei Denali che vive su questi monti non so dire non ho ne ho idea ovvero che sono tutte donne e praticamente hanno deciso di vivere come i Cullen quindi di essere vegetariane perché praticamente loro hanno questa passione per gli uomini umani e per portarseli a letto solo che poi si sentivano in colpa ad ammazzarli ogni volta e quindi hanno deciso di diventare vegetariane per potersi fare i maschi umani boh non fa una piega va bene comunque Edward dopo aver preso questa pausa di riflessione stando fermo in mezzo alla neve per dei giorni torna finalmente a Forks e qui inizia a mostrarsi sempre più interessato a Bella insomma ci sono le loro prime interazioni tra l'altro questa cosa che lui non riesca a leggergli nella mente lo manda ai matti e per questo decide di spiarla nella mente degli altri in particolare nella mente di Jessica Stanley è Mike Newton e wow Mike Newton penso che non ci sia nessun personaggio all'interno del libro che Edward odia più di Mike Newton mi leggo una parte in cui Edward sbrocca male sentendo i pensieri di Mike lo volevo morto con una tale violenza che mi risuonava nelle orecchie mi annebbiava la vista e aveva un sapore amaro più forte del bruciore della sete sentivo i muscoli contrarsi per l'urgenza il desiderio la necessità di farlo io dovevo ucciderlo lo avrei scuoiato lentamente pezzo per pezzo separando la pelle dai muscoli i muscoli dalle ossa signori questa è la mente di Edward Cullen poi durante tutta questa questa parte no conoscitiva dove Edward ogni tanto parla con Bella insomma ci sono queste prime interazioni ci sono dei momenti in cui i Cullen devono cercare di sembrare più normali del solito perché appunto Bella li guarda spesso è lì che cerca di capire questi chi sono cosa fanno eccetera e c'è un momento in particolare che ha attirato la mia attenzione ovvero sono a mensa e Alice ad un certo punto dice fra un minuto Bella guarderà Edward fate i normali durante questo periodo qua sono sempre così cioè tipo loro che sono a mensa e che controllano tutti per capire se qualcuno pensa qualcosa no anche perché c'è stato il famoso incidente infatti Bella è stata quasi schiantata dal furgoncino di Tyler ma è sopravvissuta perché appunto Edward è balzato e l'ha salvata lei ovviamente si è resa conto di quello che lui ha fatto e ha capito che c'è qualcosa sotto però lui fa l'ognorri cioè fa finta di niente e tra l'altro dopo la questione dell'incidente a casa Cullen si fa una riunione di famiglia dove questi cercano di decidere se sia il caso di uccidere o no Bella perché Bella sa troppo ovviamente Rosalie è a favore perché la vuole fare secca questa addirittura pensa ad un piano per come ucciderla in casa sua senza lasciare tracce Rosalie intelligente e niente alla fine però decidono che non è il caso di ucciderla perché potrebbe far saltare la loro copertura e poi perché Edward è già ossessionato da lei e dice no Bella non può morire cioè mi sentirei in colpa una cosa poi che viene fuori soprattutto in Midnight Sun e che secondo me in Twilight non è molto chiara è il fatto che Edward sia veramente psycho perché in Twilight lui sembra molto più composto sembra che voglia fare un po' il playboy ci prova molto scherza ride manda frecciatine cose così e anche qui ovviamente lo fa perché i dialoghi sono gli stessi ma quello che pensa mentre fa tutte queste cose ti fa capire che lui è veramente pazzo perché tutta questa scena che fa di essere simpatico è tutta una copertura perché in realtà lui si fa le seghe mentali più allucinanti ma anche nelle conversazioni più tranquille c'è lui che ha costantemente questa vocina nel cervello che gli fa pensare a cose terribili ad esempio Edward dice oggi non vengo a lezione e Bella chiede perché no e lui risponde saltare qualche lezione fa bene alla salute e intanto pensa perché non voglio ucciderti e lui è sempre così cioè durante tutte queste conversazioni dove fa tipo il figo nel frattempo pensa oddio non voglio ammazzarla oddio mi sto innamorando ma forse no forse perché voglio mangiarla aiuto Edward e appunto poi ci sono tutti questi momenti in cui Bella fa delle cose normalissime e Edward invece si sofferma sui minimi dettagli e dà spessore a queste cose che tu dici ma come te viene in mente cioè tipo Bella dice ok e lui nel frattempo pensa il suo tono di voce però voce era calmo però forse nascondeva della paura allora ha paura di me allora mi odia oddio forse dovrei lasciarla stare ma non posso lasciarla stare perché io sono innamorato deve temermi deve capire che sono un pericolo però allo stesso tempo verrei che mi amasse c'è una scena in particolare in cui lui pensa e cito per favore salvati per favore non lasciarmi mai oppure ancora e cito sempre corri bella corri ti amo troppo per il tuo bene o il mio e questa cosa va avanti per 700 pagine 700 pagine di Edward che pensa che Bella dovrebbe lasciarlo stare perché lui è un mostro però allo stesso tempo è lì che dice oh mio dio è così bella l'amo troppo e ci sono addirittura dei momenti in cui lui veramente si perde nei meandri dei suoi pensieri contorti è anche difficile capire i dialoghi perché Bella dice una cosa ci sono due pagine di pensieri di Edward e poi la sua risposta e io addirittura dovevo tornare indietro per rileggere che cosa aveva detto lei perché nel frattempo mi ero dimenticata perché lui mi aveva sommerso mi aveva vomitato addosso tutti questi pensieri ma veniamo a uno dei momenti clou ovvero il momento in cui Edward capisce che è innamorato e che bella sarà tipo l'amore della sua vita per sempre forever allora praticamente lui vabbè sorvoliamo su questa cosa ne parleremo dopo comunque lui va a casa sua vabbè lo sapete lui la spia la guarda mentre dorme tutte queste robe non è una cosa che fa per tipo spiarla mentre si cambia o cose così sessuali ma la spia perché tipo è convinto che lei potrebbe morire questa cosa è allucinante praticamente lui si fa un sacco di ve l'ho detto che lui si fa un sacco di seghe mentali ma qui arriva a dei livelli incredibili perché inizia ad informarsi tipo cerca su google cose che potrebbero uccidere un essere umano non lo so probabilmente si è guardato troppi episodi di mille modi per morire pensa a tutte le cose che potrebbero uccidere Bella mentre lui non è lì e quindi non può salvarla addirittura si preoccupa dei ragni che potrebbero esserci in casa sua perché se un ragno tipo la morsica ed è velenoso lei potrebbe morire what? comunque durante una di queste sessioni di follia mentale di Edward lui appunto la sta guardando mentre sta dormendo e lei parla nel sonno e tra le mille cose che dice ad un certo punto dice il suo nome e qua regà perso l'abbiamo perso Edward da questo momento non vede più niente non sente più niente che non sia bella questo ragazzo oh mio dio cioè nel momento esatto in cui sente il suo nome pronunciato da questa donna nel sonno perde completamente il senno già non ce l'aveva il senno ma qua proprio sbrocca infatti questo momento è descritto come tipo un momento cruciale in cui lui ha la conferma che anche lei provi qualcosa per lui e quindi è fatta basta amore della sua vita non amerà mai più nessuno se non lei e infatti è qua che decide di mandare tutto a puttana perché perché non gliene frega più niente del fatto che se succede qualcosa poi la sua famiglia finisce nei casini insomma comunque lui si sentirà in colpa tutto estro non gliene frega più niente dice bella mi ama ok andiamo e nulla inizia a fare quello che c'è prova di brutto e tra l'altro qui molti suoi comportamenti tra cui anche lo spiarla che già erano inquietanti in Twilight diventano ancora più inquietanti perché lui si rende conto che sta facendo delle cose brutte che non dovrebbe fare ma allo stesso tempo ne fa lo stesso cioè lui si dice che è una brutta persona che è un mostro è consapevole di tutto questo ma comunque continua a farlo si definisce addirittura un ossessionato vampiro stalker e cito testualmente ah poi madora quando iniziano a vedersi tipo ad uscire insieme soprattutto dopo Port Angeles che vabbè salto perché è uguale al libro tranne che c'è lui che si fa mille segmentali vabbè comunque loro iniziano ad uscire e praticamente non lo so lui aveva apprezzato particolarmente una camicetta che lei aveva il giorno che era una Port Angeles e poi qualche giorno dopo si mette questo maglione e sto maglione raga lui è ossessionato da questo maglione perché dice che è brutto praticamente bella si veste di merda secondo Edward grazie Edward non tutti abbiamo i tuoi soldi da vampiro ah piccola parentesi se vi stavate chiedendo come fanno i vampiri ad essere così ricchi è perché Alice vede nel futuro e quindi loro investono nelle aziende che avranno successo poesia comunque lui si fissa con sto maglione sto maglione ritorna dopo pagina e pagina lui è ossessionato e dice ah quell'orrido maglione il maglione orrido di Bella Edward peggio di Enzo Mincio ah poi c'è sto momento molto carino di Edward che tipo vuole fare qualcosa di carino per Angela una delle amiche di Bella perché è l'unica effettivamente ad esserle amica perché lui appunto può leggere nella mente di tutti e capisce che tipo Mike le sta dietro semplicemente perché se la vorrebbe fare Jessica le sta dietro per convenienza ma in realtà non la sopporta cioè Jessica è ancora peggio rispetto a Twilight già in Twilight nel libro è super antipatica in Midnight Sun è ancora peggio perché sentite i suoi pensieri ed è terrificante e quindi Edward non la sopporta invece Angela è l'unica tatona piccola Angela appunto e quindi Edward vuole fare qualcosa di carino per lei allora tipo organizza una sorta di scenetta insieme a Emmett all'ora di lezione di spagnolo per far ingelosire un tizio che le piaceva in modo che da farli uscire insieme insomma tipo Edward Cupido della situazione e non lo so ma ha fatto molto ridere sta cosa perché mi immagino questo qua che ha 104 anni che si mette a fare questa roba vabbè poi arriviamo ad un altro momento clou che è la scena del prato la scena del prato è descritta anche in Twilight comunque come una scena cruciale e infatti qua capiamo ancora meglio come quella scena abbia decretato insomma lo svolgimento delle cose perché Alice come sapete vede delle cose nel futuro e aveva visto che quel momento in particolare aveva solo due diramazioni possibili o Bella e Edward che stavano insieme oppure Bella che schiattava de brutto morta perché appunto magnata da Edward e quindi c'è tutta questa preparazione a questa giornata in cui devono andare in questo prato dove lui si deve mostrare per com'è veramente ovvero sbrillucicoso ma anche di quello parleremo un secondo e tra l'altro qua c'è una cosa bellissima perché tipo i Cullen ovviamente i figli non Esme e Carlyle che poverini devono sopportare questi adolescenti ma comunque scommettono sul fatto che Bella sarebbe morta o meno cioè tipo Alice scommette sul fatto che non sarebbe morta e invece Rosalie ed Emmett scommettono sul fatto che sarebbe schiattata perché Edward non avrebbe resistito alla tentazione cioè ma questi qua ma mio Dio e appunto arriva a questa scena del prato dove lui appunto si mostra per com'è veramente sceglie tra l'altro di mettersi questa camicetta che viene descritta come tipo una camicetta mezzo trasparente io ero tipo mio Dio no però una cosa che mi ha colpito molto è il come lui sia sotto la luce del sole perché noi vabbè siamo abituati ai vampiri sbrillucicanti coi glitter però in realtà qui viene descritto molto meglio in Twilight non si capisce molto bene perché la scena inizia dopo che loro sono sul prato da un po' di tempo quindi Bella dice semplicemente che Edward è tipo pazzesco meraviglioso e che sembra che abbia dei diamanti ma non si capisce bene ma addirittura lei la primissima volta in cui lo vede cioè nell'esatto momento in cui lo vede pensa che stia andando a fuoco perché tipo emana questa luce paraflesciosa non so e addirittura si spaventa e dice oh che sta facendo stai a bruciare e invece no semplicemente brillava tantissimo e quindi a quanto pare i vampiri sotto il sole almeno nel mondo di Twilight visti dagli umani sembrano persone che vanno a fuoco e non coi glitter come ci hanno fatto vedere comunque poi durante questa scena del prato Edward sbrocca di brutto perché appunto è il culmine in cui lui deve resistere alla tentazione di ucciderla e tipo sbrocca di brutto infatti c'è quella scena che c'è anche nel film dove lui tipo sradica un albero lo lancia e fa fa la riete della situazione dopo questo momento di delirio si dà un contegno e per riuscire a calmarsi inizia inizia a classificare la flora e la fauna di questo cazzo di prato facendo addirittura dei calcoli matematici per capire quanti insetti ci sono allora io vi leggo qua le segmentali di Edward allora se in quel momento nell'area del prato che misurava circa 1025 metri quadri ci fossero stati 4913 insetti quanti insetti mediamente avrebbero potuto trovarsi nei 3625 chilometri quadrati del parco nazionale di Olympic e se la popolazione di insetti fosse diminuita dell'1% ogni 3 metri di elevazione rappresentai nella mia mente una mappa topografica del parco e cominciai a calcolare Edward perché? perché? comunque in tutto questo amore e fiori tra Bella e Eduardo ci sono due momenti di realizzazione che ho apprezzato particolarmente il primo a pagina 416 dove Edward ha appunto questo momento di lucidità che arriva così all'improvviso un'epifania e infatti pensa c'era da credere che avessi 13 anni anziché 104 esatto Edward noi guarda ed ha 416 pagine che te lo stiamo urlando contro ma grazie per aver capito poi altra realizzazione di Edward che dopo 488 pagine finalmente capisce che Bella ogni volta che le batte il cuore molto forte non è che ha paura di lui ma semplicemente eh insomma ma poi subito dopo Edward ricade ricade nei suoi peccati perché nella scena in cui sono in camera di Bella che stanno parlando ad un certo punto lei dice non ho voglia di dormire e lui veramente l'eso le chiede cosa preferiresti fare? Edward per favore dai su su arrivaci poi c'è una scena bellissima in cui Bella sviene mentre mentre si stanno baciando perché praticamente lei trattiene il respiro per poterlo baciare per evitare di muoversi troppo e quindi fare qualcosa che potrebbe metterlo a disagio però sviene perché trattiene il respiro per troppo tempo c'è ma non so quindi insomma dopo i primi tempi conoscitivi Edward che è un uomo d'altri tempi letteralmente la porta a casa sua per conoscere la famiglia e c'è la famosa scena al pianoforte io ero tipo mio dio allora prima di tutto succede una roba che io ero veramente basita allora Edward si mette al pianoforte e Bella si siede di fianco a lui nello stesso seggiolino stanno parlando e ad un certo punto lui dice ebbe un brivido talmente forte che sentì muoversi lo sgabello sotto di noi ma cosa ma per me lei ha scorreggiato raga io ve lo dico poi sempre nello stesso momento perché non bastava questo momento cringe ce n'è un altro forse ancora peggio perché praticamente lui ha appena finito di suonare la sua la canzone che ha composto per lei e lei è un po' commossa dalla cosa e le scende una lacrima sulla guancia questa scena c'è anche in Twilight però qui è spiegata dal suo punto di vista io ero tipo a cosa con il suo dito le tocca la lacrima la prende e la lecca ok e voi direte ma perché infatti ce lo stiamo chiedendo pure noi da 15 anni ma ecco la spiegazione di Stephanie Meyer inghiottì la lacrima di Bella forse scusate inghiottì la lacrima di Bella forse non avrebbe mai abbandonato il mio corpo che lei mi avrebbe lasciato e dopo tutti gli anni che avrei trascorso da solo magari avrei sempre osservato dentro di me quel suo frammento tra l'altro questa frase arriva dopo che lui spiega che praticamente i vampiri non possono digerire altro se non sangue e quindi qualsiasi cosa che entra nel suo corpo dei vampiri tipo il cibo umano poi lo sboccano tra l'altro c'è una bellissima mensa dove lui tipo è insieme a Bella stanno pranzando insieme e vuole fare il figo allora prende un pezzo un borso di pizza e lo manda giù e mentalmente pensa già pensavo al momento in cui avrei dovuto espellerlo vabbè lasciamo perdere che sbocca dietro alla mensa di scuola ma comunque cioè lui spiega tutta questa cosa del fatto che i vampiri non possono ingerire altre robe e poi fa questa cosa e dice magari magari questa lacrima non sarebbe mai uscita dal mio corpo io così oh mio dio ho dei problemi poi vabbè altri momenti loro che stanno insieme bla 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 arriviamo ad uno dei miei momenti preferiti a pagina 573 dove Edward si trasforma nel trono del muori non sono mai arrabbiato con te le spiegai come potrei esserlo sei sempre così coraggiosa fiduciosa calorosa indulgente gentile sincera buona essenziale cruciale vivificante sarei potuto andare avanti ancora a lungo ma lei mi interruppe no Edward prego continua pure abbiamo un sacco di tempo da perdere comunque dopo la gitarella a casa dei Callen con anche un momento cringissimo di Edward che tipo fa le mossette da cacciatore predatore davanti a Bella per fare il figo che vabbè c'erano anche in toilet ma qua sono ancora peggio vanno a giocare a baseball la famosa partita di baseball mamma mia pagine su pagine di descrizioni di questa partita io non capivo niente poi ma chi è che ha mai saputo giocare a baseball spiegatemi cose che non capivo assolutamente prima base seconda base quello corre quello batte ma cosa ma vi giuro lunghissima sta scena una roba pallosissima comunque finalmente arrivano i cattivi arrivano Victoria Lauren e James questa parte è letteralmente identica a Twilight tranne questo dettaglio che mi ha colpito particolarmente e che mi è piaciuto molto ovvero devono nascondere Bella in tutti i modi quindi tipo la mettono dietro per far finta che sia un altro vampiro però tipo si sente il suo cuore battere secondo me i vampiri sentono a distanze inimmaginabili devono cercare di coprire la cosa allora cosa fa Edward si mette a battere il piede per terra allo stesso ritmo del cuore di Bella e fa finta di niente così no non sei da sgamo tesoro per niente vabbè comunque qui bordello sapete Bella viene scoperta poi James la vuole magna e tutte robe quindi Bella va a Phoenix insieme ad Alice e Jasper per nascondersi e scappare il piano è sempre lo stesso insomma tutto quanto uguale a Twilight però vediamo finalmente la parte cioè che cosa fa Edward mentre Bella è a Phoenix e praticamente lui insieme ad Emmett e Carlyle vanno alla ricerca di James e anche qua pagina su pagina di inseguimenti nei boschi di questo vampiro che corre e poi si nasconde e loro che lo stanno per prendere e lui che invece riesce a sfuggire e fanno tutte le mosse mamma veramente capitoli infiniti di questa roba palloso infatti dopo un po' andavo avanti perché no vogliamo vedere solo Bella e Edward flertare Stephanie Meyer questo non ti è ancora chiaro comunque dopo tutto questo inseguimento insomma capiscono che anche James è andato a Phoenix per prendere Bella e vanno anche loro e prendono l'aereo le scene in aereo sono di un ridicolo stavo morendo delle risate prima di tutto questi stanno andando in Arizona quindi in una zona molto soleggiata dove fa molto caldo però essendo vampiri se stanno al sole pare che prendano fuoco e quindi e quindi devono trovare un modo per nascondersi allora si mettono tutti con tipo hanno queste queste felpe con i cappucci e sono tipo così e tu tipo Edward capta anche delle persone che li guardano male che pensano ma questi dove cazzo stanno andando vestiti così ma non lo sanno che ci sono 50 gradi però loro niente così assolutamente antisgamo ma vabbè ma poi la cosa la cosa assurda è che per farvi capire a quanto Edward è un rompipalle descrive nei minimi dettagli l'aereo tutte le manovre di atterraggio e io ero così ma cosa ma cosa me ne frega di sapere che le ruote stanno uscendo e stanno per poggiarsi sull'asfalto comunque arrivati a Phoenix ragazzi secondo me parte la parte migliore di questo libro il libro si trasforma in Fast and Furious il delirio il delirio più totale allora a parte che questi rubano macchine a destra manca ma ad un certo punto ad un certo punto per partire a razzo per salvare Bella rubano una Subaru truccata e sì sì la mia mente è andata precisamente lì hai visto il nuovo modello della Subaru? la Subaru SV hai preso la Subaru Baracca no Ciccio SV questa Subaru viene descritta in questo modo la verniciatura era terrificante delle bolle di un arancione acceso grandi quanto la mia testa che emergevano da quella che sembrava essere una lava di un viola intenso ottima scelta per passare inosservati vabbè comunque rubano questa Subaru Baracca e partono a bomba tipo in questa autostrada di Phoenix e fanno un milione di incidenti e poi rubano anche svariate macchine tra cui questa Porsche Cayenne di una signora ignara la scena viene descritta così Carlyle le volò incontro lei ebbe un istante appena per realizzare che a farla uscire di strada era stato l'uomo più bello del mondo che avesse mai visto dopodiché svenne tra le sue braccia cioè ma mi prego mi prego questi fanno uscire di strada la gente poi svenne ma cosa ma cosa comunque alla fine arrivano salvano Bella e tutte robe poi però devono coprire le tracce e praticamente fanno un casino praticamente c'è tutto questo piano meticoloso di Alice che lei già vede nel futuro loro danno a fuoco la sala da ballo dove Bella è finita insieme a James mandano a fuoco tutto in modo da coprire tutte le tracce e poi la scusa del fatto che Bella sia tutta ammaccata è il fatto che era in questo albergo per incontrare Edward e Carlyle che dovevano convincerla a tornare a Forks ed è caduta dalle scale ed ha sfondato una finestra e praticamente devono creare questa scena del crimine quindi c'è Alice che si lancia fuori dalla finestra e poi sparge sangue a terra cioè praticamente tutta questa parte del film sembra tipo un film action è allucinante sì del film del libro vabbè avete capito poi vabbè Bella in ospedale e tra l'altro Edward ci tiene a farci sapere questa cosa la gamba rotta era ingessata dalle dita del piede fino alla coscia ed era tenuta sollevata grazie ad un supporto sagomato in poliuretano espanso grazie questo dettaglio proprio ne avevamo bisogno Edward che continua a darci informazioni assolutamente non richieste e inutili vabbè ma poi arriva la mamma di Bella e qui io ero scioccata da questa donna perché già sembrava una vabbè fuori da testa cioè già in Twilight si capiva e anche tutti gli altri libri che questa è un po' un po' sciroccata però a sentire i suoi pensieri cioè a leggerli ero tipo ma dove vivi? la prima cosa che la mamma di Bella pensa quando vede Edward è e lui il ragazzo oh miseria Bella non ha nessuna speranza poi dice accidenti ma è bellissimo e poi che sorriso da rubacuori oh spero che non stia giocando con lei ma perché sicuro di sé bella presenza è davvero garbato cioè questa continua a fare dei pensieri tipo ma mica questo è un figo mia figlia è una sfigata oh comunque alla fine bella torna Forks vanno al ballo della scuola sembra che stia andando tutto bene addirittura Edward le promette che non l'abbandonerà mai e tu dici bravo e invece no e invece no e qua io ci sono rimasta malissimo perché in Twilight sembra che effettivamente le cose stiano andando per il verso giusto e sei contento che loro finalmente trovino l'amore ma invece no perché Edward Edward continua con le sue seghe mentali perché lui promette di non abbandonarla più o non lasciarla in realtà sta mentendo e poi pensa sì resterò con te fino a quando non troverò la forza per andarmene perché ti devo proteggere perché sono un pericolo per te oh mio dio il maledetto lui comunque crede di essere responsabile di questa Edward perché quindi così si conclude Midnight Sun però vorrei giusto darvi qualche qualche chicca in più su cose che abbiamo scoperto grazie a questo libro tipo vabbè la cosa dei vampiri che sboccano che in Twilight ovviamente non si capisce bene ma poi viene spiegata in Breaking Dawn meglio ma comunque io ero tipo what the fuck poi una cosa che si capisce molto meglio qui è alcuni dei poteri che hanno i vampiri perché loro hanno questo potere di attrarre le persone cioè gli umani perché sono delle prede quindi tipo sono come come i fiori per le api cioè sono molto belli molto colorati in modo da attrarre però allo stesso tempo gli umani hanno sempre un certo un certo distacco nei loro confronti perché percepiscono inconsciamente qualcosa di pericoloso quindi comunque si tengono a distanza ed è anche grazie a questa cosa che loro riescono a passare inosservati per molte cose che fanno un po' strane e questo giustifica anche il fatto che chiunque sia attratto da loro cioè la stessa cosa che succede con Jessica Stanley cioè lei è molto attratta da Edward lo trova figo però allo stesso tempo dice no ah un'altra roba è che tipo i vampiri possono non respirare e tra l'altro questo li rende a quanto pari dei nuotatori provetti però possono non respirare ma lo fanno un po' per abitudine che non ho ben capito cioè magari un'abitudine che hanno mantenuto la loro vita umana non lo so e un po' perché così riescono a ingannare gli umani a far pensare che stanno respirando perché se no loro tipo starebbero fermi immobili e infatti è una cosa che ricorre spesso anche nel libro cioè tipo Edward che pensava mi dovevo ricordare di muovermi ogni tanto oppure diceva ogni tanto facevo delle mosse per non dare sospetti perché altrimenti loro tipo stanno così come statue e tra l'altro questa cosa del respiro è molto utile Edward perché tipo smette di respirare a botta per non sentire l'odore di Bella così ah un'altra cosa strana è che tipo quando sentono l'odore di sangue comunque quando parte la scimmia del devo mangiare la loro bocca si riempie di veleno e ci sono un sacco di momenti in cui loro si stanno per baciare e c'è lui che fa rigettai il veleno dal mio corpo io ero tipo oh mio dio poi in generale ho apprezzato molto di più alcuni personaggi che secondo me almeno nel primo libro di Twilight non vengono fuori abbastanza anche perché Bella non ha molto accesso soprattutto alla famiglia Cullen cioè non li vede spessissimo e poi col fatto che Edward riesce a leggere nella mente delle persone ti aiuta moltissimo anche ad empatizzare con i personaggi tipo Rosalie che è sempre stato un personaggio un po' antipatico fino a quando non conosci bene la sua storia almeno qui secondo me si capisce molto di più si capiscono di più le sue ragioni e secondo me è anche molto chiaro il fatto che spesso Rosalie abbia ragione ma Edward sia un goglione e quindi le vada un po' contro e poi lui spesso ha tipo pregiudizi su di lei che secondo me sono molto chiari cioè nel senso lei pensa delle cose che hanno senso nel contesto e lui dice eh no ma perché Rosalie se la tira vuole essere ammirata quando in realtà lei ha delle ragioni molto più profonde per essere incazzata con lui per tutta la questione di Bella e quindi non lo so secondo me viene molto fuori sta roba e l'ho apprezzata ma un'altra cosa secondo me che si capisce molto di più in questo libro è che loro effettivamente sono dei ragazzini perché i vampiri appunto una volta che vengono trasformati restano bloccati tipo ibernati in un certo senso nel momento in cui sono stati trasformati quindi Edward aveva 17 anni e lui continua ad essere 17enne nonostante abbia vissuto tante esperienze le ha comunque vissute attraverso il cervello di un 17enne quindi è molto infantile ed è molto esagerato in tutto infatti anche l'amore per Bella è tipo così forte è così eccessivo che è proprio come un amore adolescenziale e tra l'altro questa cosa viene detta anche alla fine verso la fine da Carlyle che parla con Charlie e stanno parlando insomma della relazione tra i due e Charlie dice ma non è che stanno andando un po' troppo sul serio questi due ragazzi insomma mi sembra che sia tutto molto esagerato e Carlyle gli risponde beh ti sei dimenticato come era come era a 17 anni come era a innamorarsi a 17 anni e questa cosa ho detto oddio è verissimo infatti c'è la cosa bella che almeno per me è bella di Twilight è che è tutto molto drammatico molto drama molto uh proprio perché è tutto vissuto attraverso questi sentimenti fortissimi di adolescenti tra l'altro adolescenti vampiri in questo caso e quindi è tutto all'estremo e boh non lo so la trovo una cosa interessante in qualche modo tra l'altro il fatto che loro siano dei ragazzini si nota molto anche nel rapporto che hanno con Carlyle ed Esme che sono effettivamente dei genitori per loro e ci sono anche delle scene tipo di vita quotidiana a casa Cullen che sono che fanno capire effettivamente il rapporto tra tutti tipo c'è una scena in cui Edward torna a casa e ha tutti i vestiti bagnati e c'è Esme che tipo lo rimprova e dice mi raccomando cambiati i vestiti e pulisci il casino che ha fatto per terra cioè proprio da mamma e ci sono molti momenti di questo tipo soprattutto il rapporto tra Emmett ed Edward c'è proprio un rapporto fraterno loro tipo giocano insieme fanno gli scemi non lo so ho vissuto molto di più la cosa familiare attraverso Midnight Sun e mi è piaciuta moltissimo in più ci sono anche un sacco di retroscena sulle varie storie dei Cullen sulle storie passate è molto più chiara anche la storia di Carlyle tutta la sua vita prima di diventare vampiro e poi quando è diventato vampiro la cosa dei volturi c'è molto di più anche della storia di Emmett e di Alice c'è anche una parte dove Edward racconta di un Natale che ha trascorso con Carlyle prima che arrivassero tutti gli altri poi col fatto che loro sono immortali ci sono tutte queste scene in epoche diverse racconti di cose che loro hanno fatto in queste città decenni e a volte anche centinaia di anni prima e boh non lo so quelle mi piacevano moltissimo rendevano tutto molto più interessante e soprattutto rendevano i personaggi più interessanti cosa che ovviamente in Twilight viene meno perché c'è più la parte emotiva poi Bella appunto non ha accesso a queste informazioni anche perché Edward cerca sempre di tenerla molto nascosta tutta la parte vampiresca della sua famiglia tiene per sé anche molti dettagli che invece nel suo monologo interiore racconta allo stesso tempo però ho apprezzato molto di più anche Bella l'ho rivalutata molto perché in Twilight non si capisce questa cosa secondo me o almeno si capisce ma solo in parte lei è una persona che è completamente dedita agli altri cioè cerca sempre di aiutare gli altri qui ci sono molte scene in cui Edward la vede a scuola che cerca sempre di aiutare tipo i suoi compagni in difficoltà soprattutto quando vengono presi in giro tipo lei si mette in mezzo per difenderli oppure cerca di fare amicizia con questa ragazza a lezione che veniva esclusa da tutti non lo so ha questo senso di empatia nei confronti delle altre persone insomma cerca sempre di aiutare gli altri insomma e questo perché il rapporto con i suoi genitori è sempre stato molto complicato sua madre ha mollato Charlie quando erano molto giovani perché insomma era rimasta incinta molto giovane e non voleva restare a Forks quindi se n'è andata via la madre tra l'altro questo personaggio un po' così cioè che è molto spirito libero molto sagittario è una madre abbastanza assente che l'abbandona un po' a se stessa cioè bella è sempre stata abituata a farsi tutto da sola a badare a se stessa da sola come dire è come se fosse cresciuta già adulta e quindi insomma ha tutta questa cosa interiore bella che secondo me non viene molto fuori in Twilight perché lei non pensa spesso a queste cose comunque ci pensa ma per lei sono scontate queste robe qua mentre Edward le nota molto e soprattutto capisce molto da sentendo i pensieri dei suoi genitori e delle persone intorno a lei insomma e quindi anche il fatto di poi decidere di diventare un vampiro che detta così sembra una cazzata però effettivamente è l'unica scelta che lei fa per se stessa e basta senza pensare a tutti gli altri perché lei tutta la sua vita tende sempre a mettere davanti gli altri a fare di tutto per le altre persone soprattutto per i suoi genitori ah poi a proposito della cosa dei pensieri ho trovato interessante che Edward effettivamente non riesce a leggere bene i pensieri di Charlie perché come con Bella ha un po' di difficoltà con Bella proprio non sente niente mentre con Charlie tipo è come se i suoi pensieri fossero un po' offuscati cioè li vede tipo nebbia un po' annebbiati questa cosa è interessante anche perché poi invece della madre si sentono tantissimo cioè vengono descritti come urla cioè sua madre invade in modo assurdo con i suoi pensieri non so poi una menzione speciale va ad Alice e soprattutto la scena in cui lei appunto deve progettare il piano meticoloso per coprire tutte le magagne dello scontro con James lì c'è una scena che secondo me Stephanie Meyer ha scritto veramente bene io non so un cazzo di scrittura non fidatevi di me per quanto riguarda i libri però secondo me sta scena è veramente bella Edward riesce a leggere nella mente di Alice e quindi vede le sue visioni mentre avvengono e si capisce molto bene come funziona la mente di Alice praticamente lei nella sua mente va avanti cioè ha tutte queste visioni che le permettono di capire che cosa succederà e man mano possono cambiare tipo nella scena in cui sta capendo che cosa dovrà fare per sistemare tutto quanto vive in quel momento nel futuro in un certo senso fa delle cose e dice per esempio la tizia della reception di questo albergo dove deve inscenare questa caduta le chiede l'orario lei si guarda l'orologio e vede che non ce l'ha allora nel momento invece nel presente si gira da Jasper e gli chiede l'orologio e quindi se lo mette in modo che quando farà questo questo gesto lei abbia l'orologio effettivamente è molto strano è complicato da spiegare non ve lo so spiegare bene però vi giuro che nel libro rende tantissimo perché è come se noi facessimo una sorta di flash forward quindi vedessimo nel futuro e ogni tanto tornassimo nel presente con Alice che si gira e dice mi serve questo mi serve questo mi serve questo e poi effettivamente una volta pianificata tutta questa cosa lei la deve vivere nel presente ed è stradissimo è come tipo il tempo che si accartoccia su se stesso insomma sapevo come funzionavano i poteri di Alice però vederli in azione attraverso Edward che riesce a leggerle nella mente è stato molto molto figo e secondo me è anche scritto decentemente quindi in generale a me sto libro è piaciuto vabbè ma a me piace sempre Twilight che ve lo dico a fare cioè Edward non lo sopporto pensa troppo è palloso un po' vecchio però allo stesso tempo gli voglio molto bene e soprattutto voglio molto bene è stato molto bello ritornare sulle pagine di Twilight attraverso la mente di Eduardo mi sono divertita tantissimo un sacco di scene trash ma anche scene che mi hanno sinceramente stretto il cuore perché non lo so vabbè io sono molto legata a questa saga come sapete mi piaceva molto quando ero ragazzina vi consiglio di leggerlo se siete dei fan assolutamente sì ve lo consiglio perché ci sono un sacco di informazioni vitali a mio parere no vitali no però veramente se siete dei fan della saga questo libro è pazzesco perché ci sono un sacco di cose Edward continua ad essere il solito stalker palloso che dovrebbe smetterla però gli vogliamo bene lo stesso nonostante tutto e poi secondo me rivaluterete anche Bella fidatevi e niente detto questo penso che questo video sia durato veramente un'eternità io mi cucio la bocca perché sto parlando da ore niente vi volevo solo ricordare che il 31 ottobre ci sarà la live dedicata a Midnight Sun insieme a Adilena Zodiaco faremo il libro di Melma in diretta in live dove vi leggerò oltre a quelle che ve l'ho detto oggi tutte le frasi trash di questo libro meraviglioso e niente quindi io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere che cosa ne pensate voi di Midnight Sun se l'avete letto se non l'avete letto e soprattutto fatemi sapere quali sono le vostre parti preferite le frasi trash preferite ditemi come al solito nell'info box trovate tutti i link per seguirmi sui social la mia collaborazione con Pampling e niente basta tutto zitta ci vediamo